Buongiorno, buon sabato, ben trovati a questo nuovo appuntamento con Mattino 6, la quotidiana Rassegna Stampa. Iniziamo subito dai giornali, partendo dalle prime pagine del centro, questa l'edizione di Pescara. Titolo di apertura, disabile, muore dopo un pestaggio stroncato da un'embolia a 5 giorni di distanza, un commerciante è indagato. E poi a centro pagina, la fotonotizia, fallisce la riunione in comune, la giunta prende tempo, precari di Attiva ancora senza lavoro, scoppia un'altra protesta. Ieri i lavoratori interinali di Attiva si aspettavano delle risposte concrete, invece il tavolo tecnico, convocato in comune, è terminato con alcuni rappresentanti dei lavoratori che per protesta hanno abbandonato la riunione, mentre altri due hanno ricordato ai componenti della giunta comunale, il sindaco Alessandrini e il suo vice del vecchio, la situazione di precarietà che stanno vivendo. Nelle cronache a Città Sant'Angelo anche l'outlet finisce nel crack di Banca Etruria e poi in Pescara al posto di D'Antuono arriva il nuovo prefetto, Provolo, e giunge da Rovigo. Poi in Pescara ambientalisti critici, sanzificio giallo sulle analisi della puzza. Sotto la fotonotizia, talghe arterne, tanti gli esclusi a Pescara si parte martedì, circolano anche le auto con i neonati. Poi nello spazio dedicato alle idee troviamo un articolo di Bruno Manfellotto, si fa presto a dire integrazione a riguardo di quanto sta accadendo sempre nell'ambito della immigrazione e della integrazione. Poi l'altro articolo è di Raffaele Bonanni, l'altro commento, meno tasse per rilanciare i consumi, così l'ex segretario della CISL. Scendiamo nel taglio basso della prima pagina del centro di Pescara. Il buongiorno a Bruzzo questa mattina firmato da Pietro Lambertini, Comune Corrotto, denuncialo al Comune. L'articolo parla della nuova normativa anticorruzione, a cui si è adeguato per primo il Comune di Città Sant'Angelo, che ha predisposto un modulo per poter segnalare condotte illecite da parte della pubblica amministrazione. Come prevede la normativa, sarà poi la stessa pubblica amministrazione ad autocontrollarsi. Andiamo nel taglio alto del giornale per vedere sotto la testata i richiami dall'Europa e dal nazionale. Colonia, aggressioni di capodanno, silurato il capo della polizia tedesca. E poi terrore sul Mar Rosso, assalto dal mare al resort, feriti tre turisti europei. Adesso andiamo avanti con la lettura del centro. Cambiamo prima pagina, ci spostiamo sull'edizione di Chieti Lanciano Vasto. Titolo di apertura muore per le botte davanti al locale. Un commerciante di Crecchio è indagato per omicidio preterintenzionale. E poi a centro pagina il viaggio nei reparti del Policlinico, letti in corsie parenti furiosi, così l'asle di Chieti tratta i malati. Entriamo nel corridoio della clinica medica del Santissimo Annunziato, undicesimo livello corpo B, e sembra divarcare la soglia di un girone dantesco. Barelle in corsia che ostacolano il passaggio, posizionate persino sotto gli idranti dei vigili del fuoco, parenti curvi sui letti improvvisati in corridoio, medici ed infermieri affaccendati che vanno senza sosta da una parte all'altra. Ieri a Beabia prendiamo, la situazione era persino migliore di quella del giorno precedente. Nelle cronache di spalla, il nemico del malaffare, l'addio a Serano, inchiesa la città onesta, e poi l'iniziativa della Curia in Lanciano, cartelli e polizia al convegno dei no gender. E ancora in Chieti, spariti 4 mila euro, l'anziana è stata truffata da un falso assicuratore. Andiamo avanti ancora con il centro, adesso la prima pagina dell'edizione di Teramo. Bimbo non curato indaga la ASL, questo è il titolo di apertura ancora sulla sanità, la direttrice sanitaria a fare luce sul caso del bimbo salvato a Pescara. A centro pagina, il calcio di Lega Pro, il Teramo spera nell'effetto Bonolis per ripartire con una vittoria, oggi si torna in campo per la sfida contro il Ponte d'Era alle ore 15. Nelle cronache, un uomo di Mosciano rapire in serie a Roseto va in carcere, poi in Val Vibrata, nuovi marciapiedi, pedoni al sicuro, grazie al patto tra due comuni. In Teramo, il forum Superparco, si ispiriamoci a Valencia. E poi sotto la fotonotizia, No da Roma a Mattioli, direttore generale, allo zoo profilattico, D'Alfonso va avanti, solo voci da bar. Andiamo a vedere anche la prima pagina di L'Aquila Avezzano Sulmona. Stalker terrorizza mezza L'Aquila. Un anno di angheria e gesti eclatanti per punire la ex è stato arrestato. Nelle cronache, donna di Pacentro, nelle cronache di Sulmona, muore dopo cinque interventi chiesti i danni. L'inchiesta penale, Banca Etruglia prestava milioni ai suoi vertici. E poi nello sport, il calcio di Lega Pro, ancora una volta, l'Aquila sfida la Lupa Roma, oggi al Fattori. Sotto la fotonotizia, case in vendute, giù i prezzi, l'Aquila ribassi fino al 40% rispetto a prima del sisma. E poi a centropagina, Avezzano l'odissea di un artista, il pittore Colantoni, combatto per la vita, e il sindaco mi ignora. Il grido di dolore per essersi sentito messo da parte dalle istituzioni della sua città, Domenico Colantoni, pittore di prestigio internazionale, è malato e in una lettera piena di rabbia racconta la sua esperienza di malattie e solitudine. Il destinatario è il sindaco di Avezzano, Gianni di Pangrazio. Reo di non avergli mai risposto. Il primo cittadino replica, non possiamo comprare questa opera. Andiamo adesso avanti e andiamo a vedere, cambiando testata, la prima pagina del messaggero Abruzzo. Rapinata dalla mamma, viene ritrovata. Pescara, dopo l'affido, riallaccia i rapporti con il genitore naturale, ma inizia l'incubo, minacce e ricatti per avere soldi per la droga. Poi le botte davanti ai figli, infine arriva la polizia. E poi in Pescara uccise un disabile preso dopo 15 mesi. La notte del 7 ottobre 2014 venne aggredito e picchiato violentemente, tanto da essere costretto a ricoveri in ospedale, dove dopo 5 giorni a causa di una serie di complicazioni morì la vittima e un cinquantenne originario di Pescara affetto da una patologia psichiatrica al termine di complesse indagini. Il personale della squadra mobile, diretta da Pierfrancesco Muriana, è riuscito ad individuare il responsabile di quell'aggressione. Si tratta di Rocco Granata, 55 anni, originario della provincia di Chieti, uno dei titolari di una nota piadineria in via Pepe a Pescara. Andiamo avanti con la lettura del messaggero. A centropagina lo stalker seriale e gli allarmi bomba per colpire la ex L'Aquila. Manette è un'ex Croce Bianca che da un anno terrorizzava mezza città. E poi la fotonotizia. I ZS bocciato il manager scelto dalla regione, il ministro non ha i titoli. Arriva il commissario, si chiede il giornale. Andiamo a leggere anche nella didascalia. A colpo di scena, l'IZS, il ministro Lorenzin ha bocciato la designazione di Mauro Mattioli, proposta dal governatore D'Alfonso, a direttore generale dell'Istituto Zoo Profilattico. Secondo il ministero, non ha i requisiti. Poi nel taglio basso del giornale Sanità, Michele Caporossi, neo-DG ad Ancona. È stato anche direttore generale della ASL Lanciano Vasto tra il 2005 e il 2009. Michele Caporossi è diventato il nuovo direttore generale dell'azienda Ospedali Riuniti di Ancona, che oltre all'ospedale regionale di Torrettera chiude anche i presidi salesi, che è pediatrico, e l'ancisi cardiologico. Torniamo in alto. Andiamo a vedere di spalla, sempre sulla prima pagina del messaggero. Recuperiamo la prima pagina. Sempre sulla prima pagina del messaggero, di spalla. Dicevo, c'è una notizia che riguarda l'evento che si sta svolgendo all'Aquila. Sant'Agnese ha assolto il pianeta. Maldicenza. Tra serio e faceto, un vero processo. La sentenza emessa dall'ex procuratore capo di Pescara, Trifuoggi. Si tratta ovviamente di una usanza molto particolare che si svolge all'Aquila in onore di Sant'Agnese. Andiamo adesso sotto la testata del messaggero Abruzzo. Il giorno e la notte, il Gran Guignola, l'italiana. Lunetta Savino torna al Circus. E poi per l'ambiente, frigoriferi e detriti sotto il ponte a rischio del fiume Sangro. E sempre per quanto riguarda l'ambiente, diffida bis per il sansificio, valori di carbonio fuori dal limite. Adesso ci spostiamo sulla prima pagina della città. Andiamo a vedere anche qual è l'apertura scelta dal quotidiano della provincia di Teramo. Il prof. Mattioli bocciato per l'IZS. Questa è la notizia che il giornale pone in primo piano. Per il Ministero non avrebbe requisiti dal direttore generale. D'Alfonso, il governatore, promette battaglia anche al Tar. E poi a centro pagina, un gioco violento sulla fotonotizia. Il titolo, il 23enne picchia i genitori per giocare, arrestato dai carabinieri a Teramo. Poi a Martinsicuro, nel taglio alto della pagina, nessuna prova del furto di iPhone. La telecamera scagiona il magazziniere licenziato. E poi di spalla, Martinsicuro, un telefonino nella cella dei presunti killer. Ancora il presidente Cantarini, niente più barche nel parco marino. E a Giulianova, no alla tassa di soggiorno anche dal commercio. Sotto la fotonotizia, centro pagina, dopo il ciclista investito un pedone, a Teramo ragazza travolta, mentre attraversava in centro. Nel taglio basso, il basket, il quotidiano La Città Media Partner del Basket Teramo 2015, in serie C. E dunque questo per quanto riguarda le prime pagine regionali. Adesso andiamo ad aprire lo spazio dedicato al nazionale, andando a vedere le prime pagine dei principali quotidiani italiani. Partiamo dal Corriere della Sera, l'apertura dedicata ai fatti di colonia, colonia, arresti e dimissioni, le aggressioni di Capodanno, il caso dei profughi indagati. Merkel chiede verità, denunce in Svezia, identificati in 22 appunti con insulti sessuali trovati durante le indagini. Se ne va intanto il capo della polizia, che è stato prepensionato. A centro pagina, Mar Rosso, l'attacco nel resort. Sono tre i turisti feriti da un commando a Durgada. Dunque questa, un'altra notizia di terrorismo. E poi a centro pagina, l'ira di Renzi per i tempi sul reato di clandestinità. Il governo infatti vorrebbe abolire il reato di immigrazione clandestina. C'è una spaccatura all'interno della maggioranza con il nuovo centro-destra, che si è detto fortemente contrario. Andiamo avanti su Repubblica. Dietro front, sui clandestini, resterà il reato. Al Fano frena il governo, una scelta inopportuna. Renzi pensa ad una nuova legge ad hoc. Come vi dicevo, insiste questa spaccatura all'interno della maggioranza. E poi l'altra notizia. Nella fotografia, i tre turisti feriti a Durgada, attacco al resort con la bandiera dell'Isis, uccisi due terroristi sul Mar Rosso. Andiamo avanti. La stampa è con gli illeciti di Banca Etruria. Dunque si cambia argomento nell'apertura della stampa. Perquisizioni in 15 società. L'indagine della procura di Arezzo punta i prestiti concessi in conflitto di interessi. Nelle carte di Banca Italia, le violazioni dei manager e dei consiglieri che hanno affondato l'istituto. A centropagina, Madai all'agonia della fame. Dopo 40 giorni di assedio, Assad apre le porte della città agli aiuti da parte dell'ONU. E poi lo scontro sul reato di clandestinità. Adesso il governo frena sulla depenalizzazione. Scontro Orlando Alfano. Salvini dice pronti al referendum. Ovviamente la Lega ha già espresso la sua contrarietà all'abolizione del reato di immigrazione clandestina. Il sole 24 ore, il quotidiano economico italiano. Il boom del lavoro negli Stati Uniti non basta. Le borse, l'apertura a dicembre, 292 mila occupati in più. Piazza Affari perde l'1,58% e torna sotto quota 20 mila. Mercati sempre in calo per i timori su Cina e petrolio. E poi ritroviamo la notizia che arriva dall'Egitto dell'attacco ad Urgada. Ucciso un assalitore, feriti tre europei. Il blitz al resort gridavano alla Akbar, che vuol dire alla E grande. A centropagina torna a crescere il reddito delle famiglie, ma la pressione fiscale ancora non scende. L'Istat dice cala il deficit. A novembre entrate al più 9,2% grazie all'autotassazione. Sarebbe il 3,8% al netto. Andiamo ancora avanti. Il messaggero Egitto. Assalto al resort dei turisti. Terrore ad Urgada. Due terroristi armati rompono in un hotel al grido di Allah. È grande. La sicurezza spara. Uno viene ucciso, l'altro è stato catturato. Tre europei feriti. Trovata anche una cintura esplosiva. E poi, fatti di colonia, la Merkel dice una vicenda inaccettabile. Molesti e fermati. 18 profughi rimosso. Il capo della polizia. E poi, bomba sui conti di Roma. Salari comunali a rischio. Il MEF congela il fondo per le indennità. a pioggia servizi in bilico. Andiamo avanti sul giornale. Andiamo adesso a vedere i quotidiani che fanno riferimento al centrodestra. L'intervista. Renzi, Forza Italia. Il voto. Il rilancio di Berlusconi. Democrazia sospesa. Torniamo alle urne. Forza Italia porterà il centrodestra al 40%. E l'Istat intanto sbugiarda Renzi. Scrive il giornale. Nelle 2015 tasse aumentate. Andiamo su Libero. Restando sempre al campo del centrodestra. Kamikaze al governo. Clandestini in casa nostra. Questo è il titolo di apertura di Libero. Mentre tutta Europa innalza i muri e chiude le frontiere. Noi aboliamo il reato dell'immigrazione illegale. Incredibile Merkel sulle violenze di Colonia. I profughi, le vere vittime. Crolla nei sondaggi. E poi a centropagina la vignetta. Salvini, Cacero Renzi. Resto l'unica difesa dell'Italia dai barbari. Andiamo ancora avanti con la lettura dei giornali nazionali. Questo è il tempo. Lo scandalo. Le case dei ciechi ai VIP che non pagano l'affitto. Appartamenti di lusso a prezzi bassissimi. E l'istituto Sant'Alessio va in rosso. Debiti per 20 milioni. E poi un'altra notizia di cronaca. Trasmette l'AIDS a 30 ragazze. Panico nella capitale. La procura dice fece sesso consapevole della malattia. E poi la strategia araba. Abusi sessuali sulle donne europee. Si torna a parlare ovviamente dei fatti di Colonia. Nel taglio basso Roma-Milan. Ultima chiamata. Pioli e Coa a Firenze provano a restare in scia. All'Europa ovviamente la notizia riguarda il massimo campionato di calcio. Andiamo adesso sul mattino di Napoli. Molesti e shock. Buffera sui profughi. Addio al reato di clandestinità. Il governo rinvia. De Luca il governatore della campagna. Repressione basta radical chic. A Colonia tra i 32 sospettati anche 18 migranti che hanno chiesto l'asilo politico. La polizia è sott'accusa. È stato sospeso il capo della polizia tedesca. Saliamo nel taglio alto della pagina. Palti a quarto. Stop del prefetto. Lavori sospetti sulle fogne. Via al commissariamento. Ieri c'è stato un consiglio comunale abbastanza drammatico. A quarto con il sindaco in lacrime e i consiglieri del Partito Democratico che hanno chiesto a gran voce le dimissioni del primo cittadino. L'antimafia intanto indaga sulle famiglie di imprenditori che avrebbero sostenuto l'ex consigliere del Movimento 5 Stelle. Con un post Beppe Grillo anche ribadito che i voti della mafia al Movimento 5 Stelle fanno schifo. Però intanto l'inchiesta va avanti. Andiamo sull'avvenire. Colpo all'Egitto. Terrore in hotella d'Urgada. Bloccati i jihadisti. A Bruxelles scoperto il covo del killer di Parigi. Il fatto. Due assalitori con la bandiera del Daesh. Che sarebbe l'Isis. Il nome arabo dell'Isis. Neutralizzati sulla costa del Mar Rosso. Feriti tre europei. Un agguato anche in America. Poi scendiamo a centropagina. Unioni civili. Il governo dà la parola alle camere. Per quanto riguarda la politica di casa nostra. Mediazione in corso sulle adozioni gay. Zanetti dice chiederemo uno stralcio. Ancora avanti con l'unità. Questo è il quotidiano che fa riferimento al Partito Democratico. Tutti a casa. Sciogliere per infiltrazioni camorristiche il comune di quarto. Mal governato dai Cinque Stelle. Grillo e Di Maio sottovalutano. Ma la procura commissaria un appalto in odore di mafia. Il PD manifesta e chiede le dimissioni del sindaco. Come vi ho detto in precedenza. Andiamo ancora avanti con il manifesto. La fotonotizia con questa immagine della cancelliera tedesca Angela Merkel. Il bersaglio grosso. Cadono le prime teste per i fatti di capodanno. Silurato è il capo della polizia di Colonia. Mentre aumentano le denunce delle donne. Tra i 31 fermati. 18 sarebbero rifugiati richiedenti asilo. Poi si continua dalla CSU a PG da destre scatenate contro le politiche di accoglienza di Angela Merkel che valuta la linea dura sulle espulsioni. Sotto la testata del manifesto. Sulle unioni civili Renzi sceglie di non scegliere. Questa è la posizione del manifesto. Andiamo al fatto quotidiano. Matteo Darabia. Imbarazzi e conferme a Palazzo sull'inchiesta del fatto. Rolex e regali. Il Papa li dà in beneficenza. Renzi invece se li tiene. E poi il blitz della Guardia di Finanza. Per quanto riguarda le crack Etruria perquisizioni in 14 società. A centropagine invece Family Day. Siamo al 22esimo posto in Europa per l'aiuti alle famiglie dalle parole ai fatti. Chi sfila per le coppie tradizionali non fa mai nulla per sostenerle. Adesso andiamo a vedere rapidamente anche i principali quotidiani sportivi nazionali. Prima di passare al meteo. Questa è la gazzetta dello sport. La prima pagina. Foto finish sulla fotografia questo titolo. Sprintano Inter-Fiorentina-Napoli e Juventus. Quanto conta davvero lo scudetto d'inverno. Ovviamente trovate ricapitolato anche il punteggio. Sotto la testata Roma-Milan da brividi. Garzia Mihailovic. Chi sbaglia è perduto. Casino Cerci va verso il Genoa. Il tecnico che perde rischia grosso. L'attaccante non convocato è stato avvistato di notte a Campione d'Italia. Ormai è in uscita. Andiamo a vedere adesso il corriere dello sport. Sinisa sfida Lippi e Capello. Stasera a Roma si gioca il Milan. In corsa anche un grande ex col CT mondiale. Mihailovic e Rudy due pistoleri ma non mollerò mai. Ora dobbiamo rialzarci. Cerci fuori e rottura. Garzia ci basta un solo clic e un filotto di vittorie. Pronti a ripartire. Totti figura tra i convocati. E poi di spalla la svolta. Inter-Eder incontro ad Appiano. Vertice con Ferrero per Dodò, Ranocchia e l'Italo-Brasiliano. Sotto la testata. Saponara più sensi e la Juve dei giovani. Mani bianconere sui due gioielli. Poi Cairo. No, non vendo. Maximovic al Napoli. Così il presidente del Torino. Sulla trattativa con gli azzurri. Andiamo nel taglio basso. Ok. Dell'International Board. Rivoluzione nel calcio. Sì. Alamo Viola in campo. Tavecchio. Dice bene così. La B si candida a torneo pilota. E poi il debutto a Madrid di Zinedine Zidane sulla panchina del Real. Su il sipario sarà uno show real. Va all'assalto del Deportivo e chiude il mercato. Andiamo adesso su Tutto Sport. Ne manca uno buono per quanto riguarda la Juve. Marchisio Out crea il buco a centrocampo. Intanto incassato il no per Gundogan. Di Arra sorpassa Banega. Però serve un'accelerata. E poi per il Torino. Facci capire cosa combini. Ventura per ora blocca. Maximovic non ha alternative. Torna immobile. Si chiede il giornale. Nel taglio alto sotto la testata. Clamoroso. Si Alamo Viola in campo. Il board internazionale della FIFA invita alla sperimentazione della tecnologia video. Tavecchio. Dice siamo pronti ad introdurla anche in Serie A. Adesso apriamo lo spazio dedicato al meteo con il collegamento con il nostro esperto Giovanni De Palma di abruzzometeo.org. Buongiorno a te Giovanni. Buongiorno Alfredo. Buongiorno a te e a tutti i telespettatori. Allora quali saranno le condizioni meteo in questo weekend a te? Diciamo che la nostra penisola continua ad essere interessata da un flusso di corrente atlantica in seno alle quali si muovono dei sistemi nuvolosi che attraversano soprattutto le regioni centro-settentrionali. Ma si tratta di perturbazioni non particolarmente consistenti che tuttavia nelle prossime ore favoriranno degli annuvolamenti soprattutto tra il pomeriggio sera e la mattinata di domani in particolar modo sul settore occidentale. Ma diciamo la caratteristica principale di questa situazione meteorologica sarà il vento previsto in rinforzo già a partire dalle prossime ore ma in particolar modo nella giornata di domenica e soprattutto tra lunedì e martedì quando soffriranno forti venti occidentali o sud-occidentali che favoriranno un deciso aumento delle temperature su gran parte della nostra regione ma soprattutto sul versante orientale dove ci sarà il Gardino. Altre perturbazioni quindi si susseguiranno sulla nostra regione nella giornata di domani quindi sono previsti degli annuvolamenti più consistenti sul settore occidentale con possibili precipitazioni ma ovviamente la neve cadrà a quote molto elevate perché è previsto un sensibile aumento delle temperature anche alle quote superiori. Quindi forti venti al freddo nei prossimi giorni perché una vasta circolazione depressionaria attualmente posizionata sulle isole britanniche tenderà poi gradualmente a interessare gran parte dell'Europa centrale quindi si sposterà verso Levante e ciò favorirà appunto un deciso rinforzo dei venti un sensibile aumento delle temperature nella giornata di lunedì ma da martedì le correnti inizieranno ad assumere la traiettoria più settentrionale quindi di maestrale e le temperature inizieranno nuovamente a diminuire ma non arriverà il grande freddo tuttavia insomma si porteranno quantomeno in linea con le medie stagionali ecco quindi questo è opportuno specificarlo ma comunque sarà un tempo in questi giorni caratterizzato da annuvolamenti raffiche di vento e un clima decisamente mite sulla nostra regione al freddo. È un inverno insomma abbastanza particolare non c'è il freddo che di solito caratterizza soprattutto l'inizio di gennaio molti si aspettano insomma lo so che ti chiedo un outlook forse troppo in là però molti si aspettano un inverno spostato più verso la primavera potrebbe essere così oppure insomma si continuerà con questo clima mite? Sì Alfredo se teniamo presente il fatto che siamo stati interessati da due metri di alta pressione ripeto con una piccola parentesi a fine novembre con una intensa perturbazione diciamo che è come se la stagione fosse in ritardo quindi come se l'inverno ancora non arrivasse perché siamo comunque interessati a una fase di una circolazione meteorologica più simile all'autunno che all'inverno quindi non ci sono ancora scambi meridiani quindi correnti da nord ci sono correnti occidentali che mantengono le temperature ben al di sopra delle medie stagionali è chiaro che fino alla prossima settimana non si prevedono sostanziali variazioni se non una progressiva diminuzione da martedì ma ovviamente l'inverno quello vero stenta ad arrivare e non è escluso che poi ovviamente possa verificarti qualcosa nelle prossime settimane ma adesso non lo possiamo sapere lo possiamo solo ipotizzare ovviamente comunque noi terremo informati quotidianamente della situazione nel caso ci fossero nuovi cambiamenti della circolazione al freddo grazie Giovanni prima di salutarci ricordo i riferimenti per essere sempre aggiornati sulle condizioni meteo il sito di abruzzometeo.org lo vedete in questo istante messo in onda dalla regia di Gianni D'Areo e poi troviamo anche le due pagine facebook quella di Abruzzo Meteo eccola qui e poi la pagina personale di Giovanni De Palma ovviamente sui social potete interagire con Giovanni che io ringrazio per essere stato con noi anche questa mattina ritroveremo lui ovviamente lunedì per il consueto aggiornamento sulle condizioni meteo ti auguro buona giornata e buon weekend grazie Alfredo una buona giornata e un buon fine settimana a te e a tutti i telespettatori di TV6 e noi ci fermiamo per il break pubblicitario poi torniamo con la seconda parte in cui approfondiremo le notizie dalla nostra regione tra poco eccoci di nuovo insieme per la seconda parte di mattino 6 torniamo ai quotidiani regionali ripartiamo dalla pagina Abruzzo del messaggero Bond Beffa prove di dialogo a Roma questo è l'articolo che riguarda il crack delle banche delle quattro banche salvate poi dal governo amministratori delle nuove banche comitati delle vittime al tavolo la Pierdicchi di cena arrivò le risposte concrete la cauta apertura dei rappresentanti dei risparmiatori il gruppo di pizzoli sarà da Nicastro la prossima settimana Etruria la denuncia dopo il blitz della finanza i soldi degli obbligazionisti servivano per l'outlet di Pescara poi per quanto riguarda la politica regionale la maggioranza ad Alessandro sulla finanziaria polemiche inutili da parte dell'opposizione in particolare di Forza Italia ieri la conferenza stampa in risposta alle accuse lanciate proprio dai consiglieri di Forza Italia sulla manovra di bilancio in particolare sull'aumento delle tasse andiamo a vedere insieme il servizio di Francesca Romana Testi neanche 24 ore dalle dichiarazioni del centrodestra è subito pronta la risposta del PD sulle critiche mosse alla finanziaria appena approvata Camillo D'Alessandro rimanda al mittente le accuse e spiega che i suoi predecessori coloro che oggi lo attaccano sono proprio la causa del debito accumulato dall'Abruzzo anni di bilanci tecnicamente falsi spiega il consigliere delegato privi di rendicontazione un buco da 529 milioni di euro mai più le nuove generazioni saranno indebitate dalle vecchie generazioni della politica e dei politici che invece di assumersi le responsabilità hanno rinviato al futuro le non decisioni come se il futuro fosse una discarica e oggi noi e soprattutto i nostri figli pagheranno il prezzo era necessario iniziare a pagare i debiti che hanno fatto altri per liberare risorse per partite essenziali come il sociale come i trasporti, come tutto il resto che oggi non trova grandi coperture ma solo attraverso un bilancio verità iniziamo un cammino che ristabilisce priorità e risorse certe La seconda precisazione la fa sull'accusa mossa la tassazione se il centro-destra accusava di aver mantenuto costante la tassazione nonostante il pareggio nei conti D'Alessandro spiega l'opera in corso per aumentare i servizi sul territorio I 529 milioni pesano sul bilancio in modo clamoroso l'abbattimento delle tasse è come se cambiassero la vita i cittadini abruzzesi anche un euro per carità sono importanti ma stiamo parlando di meno di mezzo pacchetto di sigarette all'anno a cittadino non stiamo parlando di centinaia di migliaia di euro è meglio restituire questi soldi ai cittadini con i servizi per esempio garantendo le prestazioni essenziali sul sociale garantendo la sanità garantendo il diritto ai trasporti è chiaro che questo è un pelaggio intivenire perché da qui a qualche mese quando avremo la certezza di poter ammortizzare questo debito in 10 anni, non in 7 si libereranno risorse che andranno sul sociale e sui trasporti Sempre sulla pagina Abruzzo del Messaggero c'è il bilancio 2015 di Sinistra Ecologia e Libertà bene Obrina, male il piano rifiuti un 2015 tra altre bassi così lo ha definito il segretario regionale di SEL Tommaso Di Febo con tante battaglie ambientaliste andate a segno come quella su Obrina Mare e qualche boccone amaro come il cambio di ruolo subito da Mario Mazzocca in regione, da assessore all'ambiente sottosegretario alla Presidenza andiamo a vedere insieme il resoconto della conferenza stampa Un anno di SEL, un anno di battaglia e di risultati per l'Abruzzo inizia così il resoconto stilato dai rappresentanti di Sinistra Ecologia e Libertà che elenca le priorità per il 2016 come il non-brina, la bonifica di bussi la politica sui rifiuti, la ricostruzione all'Aquila e il caso dei puratori I finanziamenti previsti nel Masterplan su cui noi abbiamo puntato in maniera importante 60 milioni per la Tremonti di bussi di cui 4 già disponibili con il nuovo con la programmazione del 2016 ma anche e soprattutto il 2SIR il sito di interesse regionale di Chietiscalo su cui molti dichiaravano da tempo di volersi impegnare ma su cui di fatto abbiamo noi realizzato questo importante finanziamento di 6 milioni di euro di cui uno già utilizzabile dal 2016 e poi il SIR salire a lento dall'altra a parlare il parlamentare Gianni Melilla che spiega il lavoro svolto a Roma tra le priorità il reddito di cittadinanza per i disoccupati l'apertura di un terzo polo universitario e l'aspra critica la legge Fornero sulla quale spera di ottenere delle modifiche grazie ad una proposta già scritta io ho presentato varie proposte di legge in questo campo una a cui tengo molto è quella di rivedere per esempio l'età pensionabile per tutte quelle famiglie in cui c'è un disabile a carico al 100% grave e quindi per quelle famiglie i lavoratori non possono arrivare a 67, 68, 69 anni per andare in pensione perché ovviamente con l'età i problemi della salute si aggravano e l'esigenza di accudire delle persone disabili renderebbe necessaria una misura di equità nel senso di prevedere per queste famiglie la possibilità di un'età pensionabile che abbia degli sconti come età adesso andiamo sulla pagina Abruzzo del centro referendum sulle trivelle cadono 5 quesiti su 6 la Cassazione torna sulla decisione dello scorso novembre e dichiara ammissibile un solo quesito il 13 gennaio si pronuncerà la Corte Costituzionale sempre in tema di petrolio e il Ministero dà l'ok alle ricerche della PetroCeltic il coordinamento trivelle zero del Molise ha chiesto ufficialmente alle regioni Molise Abruzzo e Puglia di ricorrere al TAR dopo la recente concessione datata 22 dicembre del permesso di ricerca di idrocarburi in Adriatico rilasciata alla società PetroCeltic di Roma andiamo adesso nel taglio alto del giornale rincaro pedaggi autostrade proteste dei pendolari romani si torna ovviamente a parlare dei rincari sulla 24 a 25 poi associazione coordinamento centri diurni riabilitazione psichiatrica senza fondi l'associazione esprime marcata preoccupazione per il mancato finanziamento della legge 94 del 2000 sulle borse lavoro a favore degli utenti in carico ai dipartimenti di salute mentale della regione Abruzzo nel taglio basso di questa pagina rapporto Sogea Abruzzo 780 casi all'asta numeri in calo diminuiti del 6,7% in 6 mesi le procedure in corso sono 28.672 andiamo avanti con la lettura del centro andiamo adesso a vedere insieme la pagina di Pescara inchiesta della procura morto per le botte davanti al locale disabile stroncato da un'embolia dopo il pestaggio commercianti di Porta Nuova indagato per omicidio preterintenzionale la sorella della vittima prima di essere picchiato mio fratello disse solo che a quell'ora nel locale dovevano esserci minorenni non meritava questa fine la tesi della difesa non c'è alcun nesso di causalità tra la morte e quello che successe quella sera non sono fatti nemmeno da accostare secondo appunto i legali che difendono il commerciante nel taglio basso madre rapina la figlia e il suo padre adottivo ai domiciliari Elena Toscano denunciata dalla giovane con cui due anni fa aveva riallacciato i rapporti andiamo avanti sempre per quanto riguarda Pescara c'è una notizia c'è la notizia del cambio anzi dell'arrivo del nuovo prefetto a Pescara arriva Provole il nuovo prefetto lunedì l'insediamento al posto di Dantuono Campano 62 anni proviene da Rovigo dove è stato per tre anni a capo della prefettura e poi oggi il funerale muore a 33 anni il figlio di un dipendente della ASL e ancora Pescara la quinta sede dell'Isia passa la proposta di Melilla di Sinistra Ecologia e Libertà nasce l'Istituto per le Industrie Artistiche nel taglio basso salvato dai vigili urbani di Pianella Falco Pellegrino portato al centro recupero Rapaci a Pescara da martedì entreranno in vigore le misure anti-smog targhe alterne salve le auto con i neonati firmata l'ordinanza con i divieti escluse decine di categorie e qui vedete anche uno specchietto riassuntivo delle polveri l'atmosfera all'inizio dell'anno con i valori ovviamente quelli in rosso sono i valori peggiori andiamo a vedere anche lo specchietto delle misure per quanto riguarda il piano per le targhe alterne che sarà presentato questa mattina in conferenza stampa al Comune il piano prevede che si inizi il 12 di gennaio e si andrà avanti fino al 29 di marzo con un blocco del traffico in base all'ultimo numero pari o dispari della targa i giorni di stop sono il martedì e il giovedì il martedì le targhe dispari e il giovedì quelle pari gli orari sono dalle 9 alle 12.30 dalle 15.30 alle 18.30 sono interessati tutti i veicoli a motore benzina e diesel compresi moto e ciclomotori le sanzioni per le trasgressioni sono con multe di 164 euro ridotte a 114.80 se si paga entro 5 giorni dalla notifica e poi c'è anche la lunga lista delle esclusioni da queste misure in retroscena Alessandrini e Del Vecchio restano soli tutta la maggioranza contro l'ordinanza isolati sindaco e vice negozianti artigiani sono sul piede di guerra infatti già ieri già in realtà dai giorni scorsi hanno più volte fatto comunicati proprio contro questa misura delle targhe alterne andiamo avanti il sanzificio mistero sugli esami della puzza il forum dell'acqua mai resi noti i dati sul superamento dei valori dei fiumi e in città si continua a respirare un cattivo odore andiamo a vedere insieme il servizio di Paolo Renzetti il forum abruzzese dei movimenti per l'acqua e l'associazione Pescara.0 chiedono attraverso una nota che sulle missioni del sanzificio di Pescara gli enti facciano di più partendo almeno spiegano da una decente informazione dei cittadini rilasciando e pubblicando sui loro siti web la documentazione di cui sono in possesso nel sottolineare infatti che il decreto legislativo 195 del 2005 impone agli enti di pubblicare sui loro siti web i dati ambientali e dei monitoraggi che detengono e tutte le autorizzazioni gli ambientalisti si chiedono a che punto siano i siti di Arta Asl, Comune e Provincia quale sia il quadro emissivo autorizzato del sanzificio quali i flussi di massa orari per ogni sostanza parametro quali sono stati i monitoraggi a cui è stato sottoposto l'impianto negli ultimi anni e con quali risultati infine gli ambientalisti rendono pubbliche immagini video e fotografiche riprese dal forum dell'acqua al sanzificio di Pescara nelle notti scorse con una videocamera termografica precisando che servono solo a rappresentare in altra forma quello che tutti i cittadini vedono di giorno il riversarsi di enormi quantità di fumi nell'atmosfera che poi in parte ricadono sulla città la composizione la quantità esatta degli stessi e la rispondenza con i limiti tabellari aggiungono deve essere valutata dagli enti andiamo avanti sempre restando in tema di inquinamento ma questa volta non dell'atmosfera ma del mare arriva l'annuncio della Sibcof Commercio i balneatori infatti sono pronti ad un corteo di protesta questo l'annuncio del presidente dell'Associazione Provinciale di Pescara Riccardo Padovano che dice siamo preoccupati per i risultati delle ultime analisi dell'arta non si può più perdere tempo continua Padovano chiederemo interventi immediati da parte della regione e degli enti interessati per salvare la prossima stagione estiva ricorderete tutti quanto accaduto invece nella passata stagione estiva con i divieti di bagnazione l'ordinanza fantasma del comune di Pescara per la quale c'è anche una inchiesta omaggio a Sargiacomo da basket e football cambiando argomento successo della manifestazione Ciovitto all'antistadio Flacco e al Palelettra dedicata al manager andiamo avanti adesso passiamo all'avvertenza di Attiva sempre per i nodi che riguardano il comune di Pescara precari senza futuro scoppia la protesta non sappiamo come campare il comune prende tempo ieri la riunione che c'è stata in comune non è finita come avrebbero sperato i rappresentanti dei lavoratori gli stessi lavoratori interinali di Attiva il comune ha chiesto il parere della Corte dei Conti vediamo il servizio l'avvertenza degli interinali di Attiva arriverà sul tavolo della Corte dei Conti nel corso della riunione odierna a cui ha partecipato oltre all'amministrazione pescarese anche il presidente della regione Abruzzo Luciano D'Alfonso è stato deciso di sottoporre alla Corte dei Conti il quesito sull'ipotesi conciliativa chiesta dai lavoratori e dai loro legali che prevede la trasformazione a tempo indeterminato dei contratti di somministrazione che per molti vanno avanti da anni in considerazione dell'incertezza giurisprudenziale circa la possibilità di conversione dei contratti di somministrazione in contratti di lavoro a tempo indeterminato dice il sindaco di Pescara Marco Alessandrini si provvederà ad inoltrare un quesito alla Corte dei Conti circa la fattibilità giuridica di una conciliazione stragiudiziale tendente a stabilizzare i lavoratori nel frattempo raccogliendo l'invito del presidente della regione a ridefinire in termini amministrativi l'effettivo fabbisogno della città in relazione all'igiene urbana continua alla nota del comune l'amministrazione valuterà l'ipotesi di porre in essere una nuova procedura di evidenza pubblica per la copertura degli eventuali posti che si dovessero ritenere necessari dovranno dirci sì o no rispetto alla percorribilità della soluzione che noi abbiamo prospettato resta fermo la volontà di andare avanti nel caso in cui le vostre richieste non fossero accontentate direi proprio di sì dove dovesse risolversi con nulla di fatto noi siamo pronti a coltivare ulteriori iniziative giudiziali che già abbiamo promosso e non ci saranno solo iniziative giudiziali ma anche manifestazioni infatti leggiamo dal giornale che da oggi c'è il presidio dei lavoratori in Piazza Italia a tempo indeterminato Piazza Italia è davanti il comune di Pescara e la prossima settimana invece è previsto un corteo di protesta andiamo andiamo avanti con la lettura del giornale scendiamo nel taglio basso Lucia l'unica donna che ce l'ha fatta la storia mamma single di due bimbi mille mestieri alle spalle ha superato il concorso di attiva che poi è il casus belli che ha scatenato la protesta dei precari andiamo andiamo avanti la notte della lettura corsa all'ultimo libro alla Di Giampaolo il 29 gennaio l'appuntamento alla biblioteca regionale e ricerca con l'università sullo sviluppo di Villa del Fuoco andiamo ancora avanti la pagina di Francavilla dell'area metropolitana in carico all'architetto del Partito Democratico l'ordine contro il comune a Francavilla lavoro da 4.500 euro fa finire nel mirino l'ex candidato di Chieti ed architetto Luigi Febo ma l'amministrazione non svela gli atti il caso finisce davanti al Tar scendiamo a centro pagina arriva lo spogliatoio al campo da rugby San Giovanni Tatino il comune incassa 300.000 euro dalla regione ora possono partire i lavori e sempre a San Giovanni Tatino pista ciclabile slitta la decisione del Tar rinviata il 29 gennaio l'udienza sul ricorso contro l'esproprio avviato dal comune di Pescara delle aree di proprietà delle aziende sogget autotrasporti officina Vamar per fare spazio alla nuova pista ciclabile Pescara San Buceto nel taglio basso Cepagatti addobbi riciclati ecco i più creativi e poi a San Giovanni Tatino sfida di dolci tra parrozzo e fichi maritati la pagina di Montesilvano adesso Saline inquinato scatta l'ordinanza depuratore rotto la fogna va nel fiume Arte e Asle scoprono guasti all'impianto e denunciano nell'acqua liquami non trattati Maragno si scaglia contro l'aca e dice subito i lavori per la messa in sicurezza e poi la politica nel caos Maragno resta in bilico e da Lonzo va con Cantagallo il sindaco Francesco Maragno ha ancora i numeri per governare si chiede il giornale la domanda che ha aperto il nuovo anno a Palazzo di Città l'indomani della bocciatura della delibera sul trasferimento della chiesa di Villa Carmine e sono molti a interrogarsi sul futuro dell'attuale maggioranza andiamo ancora avanti con la pagina di Montesilvano e dell'area metropolitana un modulo per le denunce così si svelano gli abusi a Città Sant'Angelo il comune adotta la normativa anticorruzione via la segnalazione dei reati con una mail poi l'amministrazione farà i controlli a Montesilvano chiesa bocciata abbiamo visto in precedenza il PD ora Maragno si deve dimettere a Spoltore finiti i lavori in via Trilussa oggi c'è la festa di inaugurazione a Montesilvano McDonald's premia la scuola e sempre a Montesilvano mostra dei presepi ecco i tre vincitori delle opere d'arte andiamo avanti la pagina di penne Popoli dell'Alta Val Pescara finiti i posti al cimitero partono i lavori a Popoli l'amministrazione è costretta a ristrutturare due loculari per recuperare spazi via gli interventi di riparazione dei pilastri danneggiati da umidità e crepe a Torre dei Passeri sotto passo in centro lo scavo è concluso si apre tra cinque giorni nel taglio alto a Manopello mozione per donare gli organi mentre a Penne a centro pagina troppi immigrati e emergenza il sindaco dà il via libera all'assistenza per 20 stranieri in più nel taglio basso Penne ciclisti in gara per ricordare Mattia e poi a Carpineto della Nora Adelaide fa 100 anni l'abbraccio di 25 nipoti ovviamente anche i nostri auguri andiamo alla pagina di Chieti sanità degli annunci e realtà letti in corsia così la ASL tratta i malati ospedale viaggio in clinica medica e medicina e una donna denuncia un solo medico per le visite cardiologiche vedete alcune immagini riprese all'interno delle corsie dell'ospedale Santissima annunziata il personale dà l'anima sul lavoro ma deve lavorare in una sorta di girone dantesco scendiamo nel taglio basso anche il carcere sarà accorpato chi ti perde madonna del freddo sarà unita a Pescara ma il sappe dice no torniamo andiamo adesso sul anzi torniamo sul messaggero e sempre dalla pagina che riguarda Chieti la ASL investe 200 milioni sugli ospedali nuovi plessi a Lanciano e Vasto a Chieti i lavori per la sicurezza saranno censite e bonificate le strutture contenenti amianto anche il Santissima annunziata sarà oggetto di un intervento di riqualificazione di adeguamento degli spazi sul colle andranno servizi importanti abbiamo visto in precedenza forse c'è urgenza di adeguare gli spazi dell'ospedale la delibera è già esecutiva da parte del DG Flacco approva il piano triennale di interventi e poi abbiamo già letto in precedenza il carcere di Chieti a rischio ipotesi di accorpamento con Pescara con il sindacato che dice con il sindacato dei lavoratori degli istituti penitenziari che dice di no l'addio alla città Nicola Serano il nepote tutti devono dirti grazie ieri i funerali nella cripta della chiesa di San Giustino c'erano politici ed ex ma pochi costruttori nel taglio basso la truffa del finto incidente colpisce ancora anziana raggirata da un falso assicuratore perde 4.000 euro l'appello dei carabinieri ovviamente a stare attenti a queste truffe andiamo adesso sulla pagina dell'Aquila andiamo a vedere anche qualche notizia dal capoluogo di regione restando sempre sul sul messaggero stalker seriare arrestato terrorizzava mezza città a casa sua trovate anche apparecchiature elettroniche sofisticate perseguitava la sua ex con ogni mezzo aveva perfino causato tre allarmi bomba in una scuola materna cittadina e poi il progetto case lavoro contratti a tempo determinato 12 no e ancora cultura in crisi ATAM licenziamento per gli ultimi 5 obberata dai debiti l'associazione teatrale regionale e poi l'inchiesta lavori lungo la strada 615 niente misure interditive la pagina di Avezzano sul Mona terrorizzava il paese geometra in carcere gli anonimi e le minacce rivolte ai suoi cittadini giocano un brutto scherzo al professionista Fabrizio Lusi di 53 anni ore in manette revocati i domiciliari alla base ci sarebbe il risconto che avrebbe continuato nonostante fosse sotto controllo i fatti si sono verificati a capistrello ma Mezzamarsica li ha seguiti con preoccupazione poi a Sulmona l'incidente mortale Loretta Berardini non ci sono responsabilità sempre a Sulmona cimitero traffico causa auto fin sotto i locoli adesso andiamo invece sulla città sul quotidiano della provincia di Teramo per vedere insieme le notizie appunto dal capoluogo Teramano e dalla sua provincia l'ombra del commissariamento sull'IZS perché è stata bocciata la nomina di Mattioli per il direttore del Ministero della Salute non avrebbe i requisiti attesa per le comunicazioni da parte del Ministro nel taglio basso giornalista condannato per diffamazione del cantiniere offese personale e veleni sugli eventi patrocinati dal Comune tramite Facebook Marcello Olivieri multato per 800 euro andiamo avanti picchiava i genitori per giocare alle slot i carabinieri arrestano un 23enne di Piano della Lenta per maltrattamenti in famiglia il precedente il giudice ha tenuto anche conto di un episodio precedente di violenza del figlio nei riguardi dei genitori e poi la malasanità appendicita e scambiata per un mal di pancia è stata aperta un'inchiesta interna da parte dell'ASL di Teramo andiamo avanti appalto antincendio chiesti sette anni e mezzo nella requisitoria il PM Rosati chiede la condanna del consigliere provinciale Ciappanna di suo fratello e del dirigente dell'IZS e poi per quanto riguarda la cronaca fiamme nel magazzino dell'ASL abbandonato a Casalena andiamo ancora avanti con la lettura della città investita in centro dopo il ciclista tocca al pedone a 24 ore dal tamponamento in piazza Garebaldi una 23enne viene ferita in via Oberdan mentre attraversava la strada investimenti in aumento nell'ultimo anno è cresciuto il numero di pedoni ciclisti investiti dalle auto in centro città e poi nel taglio basso consumatori legge Bassanini questa sconosciuta per le pubbliche amministrazioni l'associazione Robin Hood denuncia le difficoltà nelle autocertificazioni problemi in arrivo anche per il canone Rai in bolletta andiamo ancora avanti Tancredi spinge sul patto del congelatore consultazioni di giunta NCD chiede la riconferma di tutti e tre i suoi assessori hanno lavorato bene la coalizione da Brucchi la colazione scusate da Brucchi oggi a Palazzo è attesa di prima mattina la consultazione con il gruppo di Dodo Teramo soprattutto e Teconi Gattiani nel pomeriggio l'ultimo incontro con Futuroin partito di maggioranza relativa del Brucchi bis nel taglio basso per quanto riguarda sempre la politica il Movimento 5 Stelle seleziona assessori per la giunta del dopo Brucchi andiamo adesso allo sport torniamo sul quotidiano il centro andiamo ad aprire la pagina dell'Abruzzo Sport parliamo ovviamente di serie B crescenze verde noi alla A ci crediamo il terzino c'è qualità possiamo conquistare il secondo posto l'attaccante qui avrò la possibilità di emergere andiamo a vedere insieme l'intervista proprio al Neacquisto verde Daniele Verde a Pescara dalla serie A da Frosinone alla Pescara in serie B per te però questo non è assolutamente un declassamento no così giovane non penso alla serie o magari alla squadra farò bene qua per poter andare di nuovo su avevi tante richieste e tante opportunità di mercato non solo dal torneo cadetto hai scelto fortemente proprio Pescara perché? sì perché è una squadra che gioca molto palla a terra giocatori molto tecnici e io mi fa piacere giocare con loro il Frosinone magari giocava con 4-4-2 tende più a difendersi invece Pescara 4-3-2-1 quindi lì davanti ci sono molti giocatori per andare a fare gol invece in passato si faceva magari più fase difensiva per poi attaccare io non ero portato per quel modulo il modulo che a me ha condizionato un po' ma non non mi prendo rammarichi perché sto qui per migliorare e andare molto su e per ritrovarmi magari una squadra di alto livello magari io mi posso adattare in qualsiasi ruolo anche tre quartista non ho problemi come giocano come gioco al Pescara e sarò pronto a dare tutto l'obiettivo è è unico perché se no non si può andare avanti il nostro obiettivo è puntare là parliamo un attimo anche della stagione che andrai a disputare nel girone di ritorno a te il Pescara chiede qualità ma anche qualche gol sicuramente quella è una cosa che chiedono tutti ma anche noi giocatori vogliamo e dobbiamo fare gol per poter andare avanti tra l'altro a Pescara ritrovi dei compagni comunque dei giocatori che hai conosciuto in passato come Caprari e Crescenzi sì sì erano giocatori che stavano nelle giovanili della Roma io più piccolo giocavo nella squadra minore però li ho visti tutti qua e per quanto riguarda il mercato Lotito rilancia per Ronaldo alla Salernitana mezzo milione a stagione per il centrocampista conteso al Pescara in Biancazzurro arriverà Domizzi andiamo avanti con la Serie B la crisi del Lanciano i rinforzi l'importante è che costino poco ecco chi può arrivare e partire nel progetto di ridimensionamento l'ex pescarese Lazzari del Novara sembra avere requisiti giusti per vestire la maglia rossonera dalla cessione di Mammarella potrebbe giungere una contropartita tecnica da Salerno o da Bari oggi parla da Versa resta o va via si chiede il giornale parola all'allenatore stamani nella conferenza stampa del Biondi dopo l'allenamento torna a parlare il tecnico della Virtus Lanciano ci ha attesa per le sue parole proprio in merito alla sua permanenza sulla panchina della Virtus e il nuovo stadio manca la proprietà sui terreni il vicepresidente Virtus il progetto c'è e va avanti il sindaco se non acquistiamo il suolo i lavori e il progetto è fermo andiamo avanti la rabbia degli ex paghera quello che penso l'ho detto in faccia alla Maio il mediano dell'Avellino niente polemiche ma ho telefonato alla Presidente piccolo deluso da quel se non era per noi era ancora al molo di Livorno il virgolettato si riferisce alle parole di Guglielmo e Valentina Maio non parlo attraverso i giornali e soprattutto non sputo sul piatto nel quale mangio ringrazio i compagni e la gente di Lanciano per essere arrivato in bianco-verde queste le parole di Paghera andiamo a vedere anche nella serie D tra mercato e campionato ha bruscato dice no al Giulianova la Miternina tratta Ragosta queste le notizie dalla serie D andiamo adesso in Lega Pro il giro NB oggi si riparte Vitturini passa dal Teramo all'Aquila ai bianco-rossi al Bonolis contro il Ponte D'Era che vola in trasferta i rosso-blu rinforzano la difesa forse Stivaletta di punta oggi le due partite che ovviamente seguiremo anche noi di TV6 e ci sarà un ampio resoconto poi nel telegiornale andiamo andiamo avanti andiamo avanti con la lettura dello sport passiamo al rugby di eccellenza contro la Lazio l'Aquila a Roma per non fallire il tecnico Mercier ci crede vogliamo successo in grado di ridare entusiasmo all'ambiente per la palla canestro Marini e Allen all'All-Star Game di A2 poi basket nel fine settimana gioca solo la C Silver scendiamo nel taglio basso ciclismo professional a Chieti oggi al Maruccino si presenta la Nippo Vini Fantini De Rosa e poi pallamano femminile di Serie A1 Globo Teramo ospite il nuoro Gommeur vuole il quarto posto il calcio a 5 di Serie A Montesilvano in rete di Patriarca i ragazzi di Ricci vogliono la vetta è tutto per questa rassegna stampa grazie per averci seguito anche oggi mattino 6 torna lunedì puntuale alle ore 7 l'informazione di TV6 invece torna oggi pomeriggio alle 14 e poi alle 19 grazie ancora buona giornata e buon weekend grazie a tutti grazie a tutti